Abbiamo mantenuto le promesse fatte e ottenuto il controllo delle nostre leggi, delle nostre frontiere e del nostro destino. Dopo quattro anni di psicodramma, tre primi ministri e infiniti colpi di scena, il premio britannico Boris Johnson non nasconde la sua soddisfazione per un secondo regalo di Natale fatto alla nazione dopo quella del vaccino. In molti mi hanno chiesto di estendere il periodo di transizione a causa della pandemia ma proprio per assicurare una ripresa il prossimo anno ho rifiutato altri ritardi e incertezze, ha affermato Johnson, rimarcando la sua vittoria politica più importante. L'accordo più volte in bilico definisce i rapporti commerciali tra il Regno Unito e l'UE per i prossimi decenni e prevede il libero accesso di Londra al mercato unico europeo sul modello canadese per un volume di affari pari a 700 miliardi di euro. Lo scoglio più complesso, quello delle quote pesca, è stato l'ultimo ad essere superato con un meccanismo di rimborsi in base alle quote di pesce per pescato nelle acque britanniche. Preservato anche l'accordo di pace del venerdì santo tra Belfast e Dublino, il confine sarà praticamente invisibile, niente telecamere e niente posti di blocco. Sulla governance il Regno Unito ha mantenuto la sua posizione, la Corte di Giustizia europea non avrà infatti influenza sulla Corte Suprema britannica. L'accordo porrà fine per decisione di Londra al programma Erasmus ma garantisce la piena cooperazione sul fronte della sicurezza. Il testo dell'intesa contenuto in oltre 2000 pagine riceverà un'approvazione provvisoria entro fine anno. Sui dettagli c'è già area di divisione interna ma quel che conta è aver scongiurato il temuto no deal.